... ... ... ... Vedete dei jppesami ragazzi, le riconoscerete Vabbè, anna, se andiamo a pranzo dai miei, quindi andiamo buongiorno ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi è domenica 27 dicembre, sono circa le 7 del mattino e oggi voglio girare lo speciale 900.000 iscritti appunto per fare questo speciale voglio girare un vlog della giornata ovviamente non sono una giornata piena di cose perché non si può fare però voglio veramente solo farvi ascoltare i suoni di una giornata tranquilla quindi adesso andiamo un attimo a preparare la colazione e poi faccio insomma le solite cose che faccio in una giornata di vacanza di Natale, nulla di che e poi faccio insomma alla mattina uso questa tisana che è una tisana del Temm che si chiama Tad il buongiorno e me la prende sempre la mia amica dall'Austria ma penso che il Temm si trovi anche in Italia da qualche parte quindi se la trovate è buonissima se la trovate prendetela io per le feste scaldo scusate, scusate, sono un po' confusa io scaldo il panettone sempre sulla piastra perché gli dà sempre un tocco in più se non l'avete mai fatto provatelo cioè non esiste provatelo dovete provarlo ok allora per colazione tisana, tisanuna io la voglio il più veramente è il più lunga possibile la tisana perché devo bere panettone a brusoli in realtà solo per le feste perché non mi riescono i panettoni però non me ne frega niente di far colazioni più pesanti durante le feste quando riprenderà la vita normale, riprenderò le colazioni normali e poi della frutta magari un mandarino lo mangio ora è un altro tipo è un altro tipo ora toglietemi una curiosità sono l'unica che mi piace di mandarli leggermente secchi nel senso li lascio all'aria e poi li mangio mi piacciono di più alcuni lo mangiano adesso però l'altro l'ho già sbocciato perché mi piace più all'aria ditemi anche voi se se lo fate o se l'avete mai provato chi ha i suoi consigli di culinare ok mangiamo un pezzettino e poi andiamo avanti con la giornata l'avete mai l'avete mai è ancora bollente buongiorno amore hai dormito bene patatina? ah ok mi lavo sempre 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 le mani prima di lavarmi il viso altrimenti mi sborcherai il viso e posso lavarlo ok tonico e fondamentalmente praticamente me lo spalmo infatti non è vero è che il biscotto sarà un dischetto di cotone quindi non lo uso e contorno occhi 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 se sentite in sottofondo il rumore del fuoco è perchè ho il cammino acceso mentre faccio poi super e abbondo sempre con il contorno occhi perchè ho il contorno occhi particolarmente secco quindi vado a distribuirlo appunto sia sull'occhiaia sia sulla palpebra adesso è l'ora del siero vi faccio vedere il siero che utilizzo in realtà vi dirò vi ci sto trovando bene ma mi trovo meglio con altri prodotti di questa linea come ad esempio la crema però questa linea è anche per pelli un po' più mature quindi acido lianuronico al 2% da unire al siero e poi semplicemente spalmo tutto anche qui cercando di fare anche un leggero massaggio e tamburellando le dita sul viso per far assorbire il prodotto alla mia pelle il meglio possibile ok bene 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 adesso mi lavo i denti giustamente adesso mi metto giusto un filo 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 di trucco le però che sono tipo qui e ho un sacco di mochi qui sotto il collo che sono quasi proprio cicatrici penso che per ora metterò solo il mascara e poi magari metterò un po' di blu quando devo uscire questo è un mascara che ho provato ieri perché l'ho lasciato maturare un po' sapete che l'ho lasciato anche un po' sempre mascara e la prima volta non mi era piaciuto perché aveva troppo prodotto e anche qui bisogna veramente scaricarne tantissimo guardate e questo è il fake it però l'ho usato e mi è piaciuto davanti adesso io posso vedere per ora va bene così poi nel caso aggiungerò un po' di blush durante la giornata vedete vedete questa parte qui praticamente io sono andata a portare fuori ami ha visto una lepre mi ha tirato totalmente tanto che mi è sfuggito il guinzaglio e mi sono anche fatto un ucchie nel bar perché c'era freddo le mie mani hanno un po' dove zite mi è scappata quindi bene sei morti allora siamo fuori siamo in giardino questa qui è partita perché ho visto un uccello e c'è un cielo un cielo un cielo un cielo adesso vi faccio vedere il terreno fa un suono bellissimo tra l'altro quindi sono super contenta adesso ve lo riprendo subito e io spero che l'audio vi piaccia l'audio un po' mi senta tantissimo una giocca da metà cc un audio un po' così è presto è ancora presto quindi penso che forse riuscirò ad andare a messare anche alle 8 e mezza di mattina è una cosa che non pensavo davvero di riuscire a fare adesso vediamo però intanto porto un attimo giuami ve lo faccio ve lo faccio vedere questo vi durerà una vita ma va bene così vi faccio sentire anche il suono dei passi perché è bellissimo è bellissimo ho sentito proprio uno scurochino uno scurochino è bellissimo questo è anche solo pazza vi faccio vedere qui se riesce a mettere a fuoco ma ehi la vedete la brina? non so si noti la brina anche sulle foglie mamma mia amore cosa cerchi? cosa cerchi amore? cosa c'è di così interessante? adoro quando fai il muso e non cerca di qualcosa cosa? amore della mamma amore così si sta incontriendo così vita da youtuber si è piantata volevo anche un attimo fare vedere quello che volevo prendere da me sottofondo e visto che questo catalogo sono bellissimo vi faccio un attimo vedere ma in realtà dove era la mia mensola a me piacciono un sacco le mensole rotonde tipo queste ma appese e intanto ho messo gli occhi o su questa libreria o scusate amiche maggio in sottofondo vediamo quale c'era poi questa no non era questa qui questa qui carina però costa mi sembra 490 449 in realtà stiamo sentendo anche un fabbro il prezzo sarebbe questo per una cosa simile più semplice ma a noi invece più semplice mi piace tantissimo lo stile industriale tantissimo non so se sino a di e poi volevo far vedere la cosa che avevo preso è una mensola quindi forse tra le mensola e le immagino di cabbino a tavoli da prancio tavolini bassi tavolino di vano volevamo prendere anche un diciamo puff per la capilla armadio però non ce ne sono di carini e non voglio prendere una cosa tanto per non so non c'è nessun puff che mi convince qui c'era solo questo ma non lo troviamo sul sito andiamo a fare le minsole poi ci serviva anche una console di ingresso avevamo visto questa ma abbiamo uno spazio troppo piccolo quindi dobbiamo decidere cosa mettere a me piacciono tantissimo le minsole in generale proprio e magari sceglieremo una di queste anche come console di ingresso adesso vediamo le dimensioni cercavo da tanto una minsole che fosse rotonda ma grande le trovo sempre molto piccole e poi dal resto un po' anche le lampote alcune sono molto belle ok siamo venuti a fare una passeggiata così a me si sfogava un pochino e io tra l'altro questo cappello da gangsta adesso magari faccio una ripresa a mio ragazzo così vedo tutto l'outfit chissà che outfit ma proprio le scarpe sbagliate anche per andare in campagna e vorrei farvi un attimo sentire anche qui quanto è calcante il terreno vi faccio vedere la mia tenuta da campagna cioè veramente no queste scarpe non sono da campagna cosa c'è? queste scarpe non sono da campagna però sì questo è il look mi sta ripetendo tutta vedete le riprese a mio ragazzo sempre le riconoscerete vabbè adesso andiamo a pranzo dai adesso vi faccio vedere un po' l'impiattamento della tavola che ha fatto mia madre non vi fate ingannare dal fatto che fosse il perito natalizio in realtà lei lo cura sempre qui vi faccio vedere altre parti della casa sempre a tema natalizio tutti i particolari non sono neanche stata a farveli vedere tutti perché sono troppi questo cinghillo che fa musica in continuazione è qui la parte principale e mia madre mi ha chiesto proprio espressamente di farvela vedere perché ne va molto fiera e ogni anno è sempre una fiera del Natale e volevo farvi notare soprattutto la densità di stalbero quanto quante palline ci sono quanta diversità di palline cioè è un qualcosa di impressionante capite quanto lavoro c'è dietro e nulla adesso vi faccio vedere l'interezza di questo di questa parte della sala che è obiettivamente quella più decorata e più bella mio padre intanto stava friggendo le panelle fondamentalmente farina di ceci acqua fritta alla consistenza della pulita che sono buonissime 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 e qui vi faccio vedere che mangio un po' di lasagne con ragù e funghi queste le ha fatte mio padre molto buone molto molto buone e molto molto calde e ovviamente ho sempre amiche spera in un pezzo tè per digerire per stare un minimo sveglia dopo una una mangiatura siamo tornati a casa sono le che sono indica me ne basta dai sono le 4 non lo so e adesso siamo in postazione io ho la mia copertina qui e il caso avessi freddo io ho anche un'altra copertina che mi sta guardando aspettato sveva dimmi le voti dimmi feva ho questa qui sul divano e quell'altra ho quell'altra lì si sveva si e si e e guardiamo una puntata di prison break è un sacco carina tra l'altro e me l'avete consigliata in tantissimi un sacco di volte perché a me era piaciuta tantissimo sia orangista new black sia vis a vis e mi mancava questa e la stiamo vedendo insieme è molto carina però siamo ancora alla prima stagione episodio 10 quindi vi saprò dire come come va come mi sembra più avanti o no o o o o o o o o Grazie a tutti. 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 Ok, allora, Gigi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se state vedendo questo video, ci auguro una buona cena anche a voi. Ci vediamo proprio per l'ultimissima parte della giornata. Ultimo step prima di fare l'ultimo step prima di andare a letto. va a letto. ma i miei occhi di capelli maschera labbra adesso leggo un po' il kindola e E magari leggo qualche vostro messaggio in direct, qualche commento sotto il video eccetera 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 Io vi auguro una buonanotte, spero davvero di cuore questo video vi sia piaciuto E nel caso abbia parecchio successo potrei decidere di farne altre Tanto visto che con questi microfonini è molto più comodo di quanto mi aspettassi Quindi io vi auguro una buonanotte Buonanotte, 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 buonanotte Sogni d'oro, buonanotte pasticcini Che rispera Grazie a tutti Grazie a tutti